Instant Gaming è un sito che vi permette di acquistare risparmiando chiavi di gioco per le principali piattaforme. Oltre alla sezione con i principali titoli in tendenza e le migliori offerte, trovate la lista dei giochi attualmente in preordine in cui risparmiare cifre anche importanti per acquistare giochi in arrivo. Ma non finisce qui perché sono disponibili offerte anche sui abbonamenti online, come Nintendo Online, PlayStation Plus e Xbox Game Pass. E se il gioco che vi interessa è per console e la key non è disponibile? Nessun problema perché potete comunque acquistare una gift card in offerta e ottenere del credito per i principali store online, spendendo una cifra inferiore al credito che otterrete e creando quindi direttamente il vostro sconto. E chiaramente non dimenticate di partecipare anche al giveaway mensile per avere la possibilità di vincere un gioco a vostra scelta. Se vi interessa trovate nella descrizione di questo video i link al negozio e al giveaway. Detto questo, grazie ancora a Instant Gaming per aver sponsorizzato questo video. Ma salve a tutti i cari sconosciuti, io sono Ferio, se preferite Meloki, siamo in compagnia di Shona, e quindi del buon Sinergo e siamo qui oggi per sterminare, conquistare e rendere Santuarium un posto migliore. Come al solito, perché noi siamo i buoni. Come al solito fallire miseriamente in tutti questi propositi, perché Santuarium fa schifo, fa schifo la glassa, fa schifo il contorno, fa schifo il ripieno. Non ci sono più le mezze stagioni, esatto, è un posto veramente orribile, ma noi ce la possiamo assolutamente fare. Allora, la prima cosa che stiamo facendo adesso è sbloccare un crocevia per Shona, che mi ha messo un segnalino, quindi nel mentre appunto facciamo un pochino di pulizia contatti, perché qui è tutto brutto. Barbari, cannibali, vedi questi sono cannibali per esempio. Che bel posto. Che bellini. Che bel posto. Quindi faremo questo, uccidiamo un po' di fauna, Flora la raccogliamo e poi facciamo i nostri, le nostre roccaforti che abbiamo deciso di fare in compagnia, che in due è sempre più bello. Sì, sì, noi stiamo giocando mondo 2, come potete vedere dal fantastico HUD che ci dà tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Esatto. Tra l'altro, io di recente ho sbloccato Tormento, ma sono ben contenta di tornare al mondo 2, dove non c'è, dove non ogni singola cosa che mi guarda mi uccide, perché comunque ho avuto l'infelice idea, allora, il livello mondo in cui, cioè Tormento, è consigliato dal livello 70 in poi, io ci sono entrata al 63. E' stato molto difficile entrare, perché ero chiaramente sottolivellata e per accedere devi fare un dungeon dove devi ricombattere Elias. Ah, ok. Sì, ed è un gran pezzo di merda, quindi comunque non è proprio una cosa immediata, però comunque poi sblocchi la possibilità di accedere e una volta che lo fai... Allora, hai sbloccato il crucevia? Sì, sì. Hai fatto, perfetto. Però quindi una volta che lo fai puoi cambiare il livello. Allora, io direi, aprendo la mappa alla nostra sinistra, adesso metto un segnalino, abbiamo il Torrione Donice, una stazione di passaggio per i commercianti, invasa da ladri a sciascini. Madonna. Non so se lo vedi nel caso che ho messo il segnalino, quindi possiamo comunque andare in allegria. Tra l'altro fra poco ti sbloccherai il cavallo. Il cavallo, davvero? Eh, in teoria sì, se non l'hai già... Allora, scusami, tu che atti hai fatto? Ma... Quindi devi a posto, non so che atti ho fatto finora, onestamente. Sto facendo tutte le missioni gialle che posso. Perché, allora, in teoria una volta che completi il terzo atto dovrebbe apparirti sulla mappa una di quelle quest grigie, quella con tipo quelle crocette, quelle che ti sbloccano le cousine, che si chiama il favore di Donan. Una volta che fai il favore di Donan, praticamente ti puoi sbloccare il cavallino e andare un pochino più veloce. Sbloccare il tizio dello stallaggio, quando la prima volta che vai a provare a farti il cavallo, lui ti dice, eh no, devi fare il favore di Donan. Esattamente. Non ti posso vendere nulla. Ti dice, sblocca prima, che è carino comunque che ti dica cosa serve, per cui ti fai un attimo, ti regoli di conseguenza e sai quanto tempo ci vuole. In realtà le mappe sono gestite molto bene a livello di dimensioni, quindi comunque non ti pesa camminarci dentro, per dire su Elden Ring, se te la fai tutta a piedi, la senti che non è fatta per essere fatta a piedi, nemmeno il boss finale è fatto per essere fatta a piedi in Elden Ring, per cui, capito, ok, siamo vicini. Mentre qui comunque è capitato anche a me di dimenticare di avere il cavallo, diciamo che adesso vado un po' in automatico per cavalcarlo, però diciamo che a volte capita se magari sono distratta, sono a telefono, che non lo prendi. Allora, qui siamo già dentro la roccaforte, quindi siamo molto attenti perché i nemici sono fortini comunque. Ci vuole un po' di concentrazione. Beh sì, 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 sono abbastanza bastardelli. Sì, siamo a livello alto. Tu a che livello li vedi? E... È una trave, aspetta che sto buttando giù una trave portante per fare giusto un dispetto. Esatto. Non so perché si possa distruggere una trave portante. È proprio la missione, è bullizzare i banditi. Devi distruggere tutto. Ah, saccheggia il loro accampamento significa fai vandalismo. Sì, devi proprio spaccargli tutto, li devi sterminare, uccidere e distruggere. Spacchi tutto quanto. Abbiamo pure i capi, cioè è proprio un lavoro meticolosissimo quello che stiamo facendo noi. Uno pensa che il saccheggio sia un'attività forse nata e dissennata. in realtà no. Uh, ragazzi. Ma che bella trappolotta. Eh, quanti soldini pure. È fermato. Come è fermato? È fermato. Interagisci. Eh, niente. Dobbiamo trovare la chiave, allora. Qualcuno avrà... Qualche stronzola chiave. Abbiamo fantastici... Fantastici poteri cosmici e... No, no. La porta alla porta non si può assolutamente rompere. È anche di legno, capito? Sì, sì, appunto. Allora, qui abbiamo... Tidrack è il doma bestie. Il doma bestie. Il blu on precious man. Questo... Nostro amico... Anto sei duro, mamma mia. Madonna che dolore che fa questo. Ah, ho trovato la chiave tra l'altro. E qui tra l'altro ci sono... Ah, ah, oh. Aquila, 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 aquila. Mamma no, vi stavo ammazzando. È perché io comunque li vedo a livello 69. Perché scala tutto. Quindi sono... Non è che siccome io sono a 67 è facile. No, io li vedo 50. Tipo la bestia spinosa la vedo a livello 50. Quindi un livello più alta di me. È perché penso... Forse non può salire appunto oltre un tot. A un livello mondo dove sei tu. Però appunto... Ah, no, no. Perché... No, non è vero. Strano. Togliti, togliti da lì. Esplode. Ecco. È troppo tardi. Ma sono appena presi un faccia 1. Un facciotto di 4. 2. It's over for you now. Chi è che parla così? Ah, Crocus labido. Quanto mi piacciono gli accenti in inglese. In questo gioco sono deliziosi. Perché hanno tutti un accento diverso. Assassino di Elzin. Orca di una gran... Tra l'altro hanno... Ti confermo nel caso non l'avessi già notato che in questo gioco i status alterati nello specifico il veleno sono più da morire. Nel senso che ti fanno un malefottuto e vanno in combo con un altro problema del gioco che hanno già detto di essere... I sviluppatori sanno già di conoscere. Che quindi risolveranno con patch un pochino più grosse in futuro. Ovvero il fatto che le resistenze non servono un cazzo. Cioè, negli equipaggiamenti, le percentuali che vedi non funzionano. Ah. Quindi quando devi scegliere considera tipo resistenza a veleno, resistenza a fuoco. Per adesso, per come è bilanciato il gioco, non ne vale la pena. Cioè, piuttosto punta un equipaggiamento che ti aumenta le statistiche o che ti mette altro. Ma... No, ma io di solito le resistenze ai singoli elementi non le guardo perché è impossibile che io trovi solo nemici che hanno un elemento. Cioè, prima o poi sarò debole a un nemico. Quindi... Quindi, vabbè, the more you know, comunque, se trovi... Se devi fare una scelta, magari, piuttosto prenditi un equipaggiamento che non ha quegli slot di abilità perché per adesso sono quasi buttati. Quindi non ne vale assolutamente la pena. Ah, guarda tante cosine gialle. Guarda, ti dico, le uniche cose che mi metto è resistenza a tutto. Quando trovo resistenza a tutto, più uno magari, una puttanata, me lo metto. Ma per il resto, no. Essere selettivi con la protezione non ha molto senso, secondo me, in questo gioco. Sì, a meno che, a meno che sì, a meno che non ti sei fatto una build specifica, non... Ma in generale è sempre meglio essere preparati a tutto. Poi, appunto, magari hai un nemico... Però diciamo che è difficile che ti trovi a fare build diverse. Cioè, appunto, non è come, per esempio, un Souls-like dove, volendo, puoi anche farti... Dei equipaggiamenti specifici in base a chi devi andare ad affrontare, per dire. Perché hanno debolezza e qui è tutto molto più cafone. Quindi ti fai la build rotta. Cioè, c'è la build DPS, la build per fare il più danno possibile, ma... Quella è... Allora... Sì, ci manca... Ci manca il tizio che era dietro la porta di legno, lì. L'insormontabile porta di legno, praticamente. Quest'ultima palluzza, l'ultimo tenente. C'è la nuova persona fine orribile. Talida. Non, ma che... Cazzo. Là. Sì, sì. E poi abbiamo l'ultimo uccidere. Abbiamo l'ultimo tipo che era quello che si stava nascondendo. Probabilmente, in realtà, è semplicemente la porta del bagno e lui stava facendo la cacca. Lo stiamo disturbando. Che è l'unica giustificazione che posso trovare per il fatto che quella porta non si potesse aprire era perché era quella del bagno e per rispetto abbiamo deciso di fargli finire i suoi bisognini prima di farlo morire in maniera orribile. Almeno muore col culetto leggero. Da bravo criminale qual è? Ma sai che io sto laggando schifosamente? Sì. Sì, sì. Oh, e adesso... Ma che cosa stai facendo? La sacra tipa! Era per esattamente un bagno, comunque. Sì, è un piccolo chiuso. O stava facendo cose brutte. Guarda, è anche arieggiato in alto. Oh, cazzo. Sì, era una trappola. Oppure stava facendo cose brutte ai cadaveri. Perché ci sono tre cadaveri qua. Madonna. Ok, adesso dobbiamo uccidere la capitana. Vai, vai. E poi abbiamo finito. Che posto di merda per combattere? Eh, era fatta apposta, era una trappola. Era palesemente una trappola, infatti. Ok, arriva dall'alto. Con l'hero landing farà il suo discorso, vero? Signora? Signora? Ok. No, non ha fatto nessun discorso. Ho solo dovuto caricare un secondo. E' tosta, eh? Mi piace questo congelotto che fai, eh? Eh, il congelotto è tanta roba. E' un'altra domanda. Sì, 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 quando li congelo... Ah, chi è che a busca qui? Purtroppo non mi sa che è resistente al congelamento. Fermi, fermi, fermi. Però adesso la stordiamo. La, mena la, durissimo. Che quando sono storditi prendono più danno. A posto. Madonna quante polsi che l'hanno troffato. Io purtroppo ho perso di recente un equipaggiamento che mi dava più tre cariche... Posso curarmi per un'ora? Più tre cariche di schivata. Ho perso degli stivali bellissimi. No. Che mi facevano fare qua. Che ho perso. Però toccava cambiarli. Era arrivato il momento. Ti avevo perso? Sì, sì. Non c'è più. Ho sentito cadere la chiamata. Non mi senti più, bene. No, l'abbiamo perso. Tornerà presto. Aspetta, aspetta. No, l'audio c'è e il mio audio c'è. Intanto l'abbiamo ucciso. Io non lo sento più. Forse io lo devo anche dire. Ah, ok, ok. Ci sei? Vediamo. Mi senti? Ora sì. Ok. Ok. Eh no, perché io ti sentivo benissimo. Però tu non sentivi me. No, no. Comunque la mia voce nella registrazione c'è. Quindi c'è tutta la paura del teore. Perfetto, perfetto. Sì, sì, sì. Pensaranno che sono pazza. Sì, infatti perché loro mi sentono. Vabbè, abbiamo fatto. Facile, facile. Hai visto? È stata proprio una... Easy. Una cosa... Rapida ed efficiente. Ma se secondo me se ne facciamo un altro paio io veramente ci arrivo al 50. Ma infatti è assolutamente il mio scopo e il mio obiettivo. Assolutamente. Tu hai Kid Bardu in alto a sinistra come... Dove ho messo il segnalino? In alto a sinistra? Kid Bardu... Sì. Eh, allora andiamo a Kid Bardu e ci facciamo l'evento legione. Va bene. Che si fanno pure un sacco di livellini. E già che ci sei, se vuoi fare più esperienza... Usa un consumabile, usa una pozione. Tu ce le hai sicuramente le pozioni. Secondo me non le hai mai usate. Brava, esatto. Allora, ho un elisir d'assalto debole. Fai quello che ti pare. Ti danno un po' di esperienza in più. Per un po' di tempo. Tutti? No. Sì, sì. Tutti quanti. Aumenta la resistenza? Ah, aumenta... Del 15% dell'esperienza ottenuta. Intanto andiamo poi perché sono parte dell'evento. Per 30 minuti? Eh, lascia fare che 15% per 30 minuti. Hai capito? Vai, vai, andiamo, andiamo, andiamo. Facciamolo. Let's do it. Non me li sono mai inculati i consumabili. No, abbiamo sbagliato strada. Lo so, lo so. Infatti avevo già capito. Però questi, quando ti fai eventi legione, cose con tanti nemici, ne vale assolutamente la pena perché nel mucchio chiaramente ti fai un sacco, un sacco di conti in più. Allora, sicuramente arriviamo a evento... Ignoriamo i nemici se non ci arriviamo. Sicuramente arriviamo a evento già partito perché teoricamente se avessimo il cavallo avremmo fatto molto prima, però comunque arriviamo a farlo. Quindi comunque ti farei un sacco di esperienza e comunque il drop si prende. Andiamo, ragazzi, evento legione. La mia legione preferita è l'abluzzo, in realtà. Però andiamoci a fare questo. L'abluzzo. Vai, non ti fermare, non ti fermare, non ti fermare. Lì ti riuscito io. Ti ammazzo tutte le moschine, vai. Non si fermi, non si fermi. Ma io posso escapolare. Non si fermi a fare con robustezza. Ci siamo. Ti seguo di te. Qui lag è normale perché ti carica le stanze. Se vedi le laggatine è perché carica le stanze. Infatti appaiono altri, mi ripeti che ti appaiono altri giocatori e cose così. Ah, ma siamo in tempo. Parte fra un minuto. A posto. E allora fatti. Prendo il mio consumabile. Esatto. E già che ci sei, puoi pure fare un'altra cosa che ti fai un wombo combo. Quindi ti prendi la pozza, ti prendi la pozioncina e poi ti metti dove sono io, vicino al falò. E interagisci col falò. Solo una volta. Dove sono io qua? Interagisci e poi resti qua, vicino. E praticamente ti appare in basso a sinistra un'iconcina a forma di fiammella. che è un piccolo bonus all'esperienza che si accumula. Quindi prendi anche più esperienza. Quindi hai il doppio bonus. Ah, io le icone ce le ho al centro. In realtà lo spostate al centro. Ah, ok, ok. Perché le avevo troppo periferiche. A volte mi perdevo la vita che scendeva repentinamente. Così ce l'ho un po' più. Sì, sì, sì. Che poi, però, penso che non ci sia maniera di rendere quella palla invece una barra. Deve restare una palla. No. Deve rimanere una palla. È già tanto che su una schermata 16 noni è abbastanza discreta. Ma su un quattro terzi. Sì, sì, sì. Sì, hanno questa cosa che hanno sempre usato le palle, le sfere. È così stupido. Però vabbè. Eccolo, è il supremo. E vabbè, allora, si manano un po' di caproni. Al solito, ormai è la nostra attività quotidiana. C'è chi fa giochi, c'è chi uccide i caproni. Uh, so nice. E poi sono tutte vendette per i uomini capra. Ah, ma sto laggando anch'io, sai? Penso che sia il gioco. È il gioco, è il gioco. Sì, siamo un po' tantieri. Ma do, che lagone. Eh, forse stanno smanettando, ci stanno lavorando in questo periodo che sono tutti isterici per l'anno. Per la stagione che comincerà. E ci saranno, a quanto pare, nuovi nemici. Io li sono seguita in la live, dove ne parlavano. Mentre zappavo, è stato molto figo, perché si parlava di Diablo mentre giocavo a Diablo. E praticamente ci saranno delle nuove robe da equipaggiare, perché praticamente i cuori corrotti. Perché ci sarà questa minaccia tentacolosa e lurida. Che insozzerà le creature buone e malvagie. Quindi anche i demoni. Ci saranno dei demoni corrotti, praticamente. Demoni corrotti, demoni al quadrato. Esattamente. Infatti saranno delle creature più forti delle loro varianti standard. Praticamente che però hanno questi droppi unici particolari che ti permettono di sbloccare un sacco di roba figa. Vabbè, perché chiaramente è tutto un Diablo. Diablo si basa su questo delirio di onnipotenza in cui diventi sempre più potente. I numeri diventano sempre più grandi. in cui devono giustificarti i tuoi superpoteri, praticamente. Anche se di trama tu sei un viandante. E va bene così. Vabbè, ma è un gioco che ti dice... Tu puoi essere quello che vuoi nella vita. Ti insegna a credere in te stesso, Diablo. Sì, sì. Ma infatti è un gioco per giovani, per ragazzi, che insegna il valore, la fiducia in se stessi. Ci sono tanti bei messaggi, soprattutto quando... Porca puttana! Mi hanno squagliato il mare. Ti aiuto, ti aiuto, ti aiuto. Mi hanno squagliato ma gli si. Eh, probabilmente anche l'allagata non aiuta. Ma non mi ha allagato, è proprio che sono arrivato lì, sono morto. E io sono stato... Sarà stato uno di quelli che scoppia. Quelli sono pericolosi. Un cecchino sul palazzo di fronte, probabilmente. Ah, vedi che c'è un sacco di gente qui. Eh, sono curioso di sapere che ne pensi di l'esperienza che sale. E in che senso? Se stai vedendo che stai prendendo molta esperienza in più rispetto al solito, oppure... Eh, ma guarda, non sto... Io non la guardo mai la barra dell'esperienza. Quando livello, livello. Quindi non saprei dirti. Però diciamo che sono a poco meno della metà. Diciamo che sono a... Ma dai, un 6 tredicesimi. 6 tredicesimi. Apprezzo l'accuratezza. Sì, ma guarda, io sono... Mi sono schillato molto con le proporzioni e con l'esorciccio. Se guardo un film da 3 ore e 15 minuti... Sì. Anche perché nel momento in cui guardi certa merda, ogni istante lo senti. Quindi è proprio una questione... Lo impari a percepire, assolutamente. No, anche a me sta laggando un sacco. E non è una questione di linea. Quindi saranno sicuramente i server. Eh, vabbè, la scienza. È più divertente. Beh, siamo tanti... No, ma tanto queste parti qui non... Cioè, non sono parti in cui fai veramente positioning. Non sono parti in cui veramente fai actions. Sono parti in cui, sai, ci sono 40 persone che menano. 10 tredicesimi. Sì, sì. Non stai a pensare. Adesso li intrappolo, sai. Faccio una combo. Mentre tu fai la combo, gli altri ne fanno tre. Sì, sì, sì. Queste sono le parti caffone dove hai... La roba che scoppia ed è divertente da vedere. Cioè, io... Per me questo è smr. Cioè, per me questo è smr... Fra i numerini, i colori, i suoni... Io lo trovo terribilmente appagante. Comunque, intanto, non mi sa che non ci arriviamo. A fare apparire il terzo servo. Siamo indietro, pazienza. Vabbè, non importa comunque. Siamo pochini. E comunque è più divertente... Eh, non lo so, ma non abbastanza. Vedi, siamo un pochino indietro. Potremmo ancora farcela, però... Il tempo sta scadendo. Tra l'altro... Ed ero off screen ed era poco... Poco prima che ti chiamassi... Te l'ho detto. Ho ridroppato il cavallo spettrale. Che è una... Un drop abbastanza raro di questi eventi. L'ho ridroppato. Neanche sapevo fosse possibile ridropparlo. Però, purtroppo... Non si poteva scambiare. Quindi... Letteralmente buttato. Non capisco anche per farlo ridroppare a questo punto. Eh, niente. Purtroppo il tempo è scaduto. Quindi ci dobbiamo accontentare di sconfiggere il Supremo. Ma ce ne faremo una ragione. Darklick, Sartio, Gelido. Non mangiare. Allora. Tra l'altro, questo scontro è più facile o più difficile in base a quanti servi uccidi prima. Se ne uccidi... Oh, chiaramente ottieni meno premi. Alla fine. Però diventa molto più semplice se uccidi meno servi. Se ne uccidi tre è la difficoltà massima. Però è alla fine i tre screen. Mentre adesso vedrai che... Mi sa che ne otterremo soltanto due. Quindi di conseguenza meno drop. Volendo tu puoi... Il sconfiggere servi dei linferi è opzionale. Però chiaramente lo fai perché tieni più premi. Vediamo. E vedi? Sono due. Tra l'altro uno dei due screen è uno screenio base. Non è uno screenio radioso. Beh... Comunque è un minimo di drop simpatico. C'è... Sì. Raffica, danneggia, nemici. Oh, madonna. Mi escono soltanto aspetti che potenziano abilità che io ho scartato a priori. Che palle. È la storia della mia vita, purtroppo. Lo so benissimo. Ma che cazzo. Io trovo sempre roba di fuoco. Sempre, sempre roba di fuoco. Allora, quello che possiamo fare adesso... A parte chiaramente svuotarci l'inventario che però faremo presto prestino. Tu a sud... No, mi sa di no. E allora ti faccio andare in un posto bello. Seguimi, seguimi. Dimmi, dimmi. Io vengo dove vai te. Tu sei stato ad Alzud, a sud. A sud... A sud da dove siamo noi. No, a sud di dove siamo noi adesso c'ho tutta la mappa vuota. Ottimo. Ho soltanto un crocevia che devo scoprire... Cioè, ce l'ho perché ci sono passato per fare qualcosa, non mi ricordo. Ma non ho nulla. Comunque vengo lì. Sì, sì. Ti faccio... Anche per così ti avviciniamo alle Roccaforti e così vedi e sblocchi la zona PvP che sono sicuro che tu ti cinfonierai tantissimo visto che sarà la tua attività principale. Ci passerò le giornate. Ma esattamente come per me Elden Ring e Dark Souls sono stati una parentesi prima della vera ciccia, cioè il PvP, anche su Diablo, dove comunque sia... Conta tantissimo, diciamo così, la skill, non tanto la parametria. Sono contentissimo di farne una... Assolutamente. No, no, no. La parametria... Quasi inutile, direi. Diablo. Tutta bravura. Sì, sì, sì. No, considera che io ho provato a incrociare delle persone e non le ho viste. Cioè, io sono morta prima che loro apparissero nel mio schermo, praticamente. Mi hanno disintegrato. Forse hai sbagliato a schivare, chi lo sa. Sì, sì, è stato chiaramente quello il motivo, non il fatto che fossero 20 livelli più alti di me con degli equipaggiamenti ancestrali. Sono sicura che era proprio quella la ragione. Ma, mettila così, tu hai perso il combattimento, loro hanno perso almeno tre settimane di vita non stop a livellare. È un evento, è un evento. È un evento? Sì, è un eventino. Sconfiggi più andate possibili, è una cosa super... Una festarella. Sì, ma che poi è ottimo per te, si fa un sacco di esperienze, tanti nemici. No, è lo scopo di questo video, farti arrivare almeno a livello 50 entro la fine. Si fa assolutamente. Si fa superissimo. Sì, sono più di metà, sono molto più di metà. Sì, sì, si fa, si fa. Dai, così abbiamo registrato eterna memoria il livello 50 di Sinergo. Sì, siamo tranquillamente a 9 sedicesimi della... Armini e il battilama. E che bombino, tra l'altro. E ragazzi, sono riferimenti estremamente culturali. Sì, sì. Allora, nel film di Boris c'è una delle scene che mi ha ucciso più di tutte. Che è quella dell'attrice che seppia la va a prendere tipo all'aeroporto e lei parla sempre sotto voce, non si fa mai capire. Dio, quanto è bello quel personaggio. Sì, ma perché diciamo che di solito uno pensa che magari i film della serie tv sono un po' messi lì per tappare i bughi oppure perché lo devono fare per soldi che non hanno molto da raccontare o che si inventano di sana pianta qualcosa senza avere nulla da dire. Mentre invece, secondo me, appunto, il film di Boris è memorabile. Sì, sì, sì. Veramente, veramente figo. Purtroppo, all'epoca l'ho visto al cinema, ci sono rimasto abbastanza male. Allora, a me il film è piaciuto moltissimo, ma ci sono rimasto male perché ho pensato che molte persone che non avevano visto la serie, magari attratte un po' dal cast, ci sono andate a vedere questo film e non ci hanno capito un cazzo. Eh sì, devi avere un background, comunque devi assolutamente conoscere quello che c'è prima perché magari di ridere ridi sicuramente, però non è la stessa cosa. Cioè, c'è una tonnellata di sottotesti che non prendi proprio. No, no, infatti. Allora, qua siamo quasi arrivati a questa zona PvP. Così ti sblocchi, ecco, sta entrando nella zona PvP di basso livello a causa delle condizioni del tuo gruppo, mamma mia, mi fa piacere. Questa ci sta pure dicendo che siamo delle seghe. Boh. Perché sono diventata invincibile? Boh, ma che strano. Ecco qua, Alzuda! Alzuda! Guarda, mi riscatto pure... crocevia. Cos'è questo? Le pergamene maledette? Eh, praticamente, tu vedi, evento PvP, c'è quell'iconcina con quella valuta nuova che sicuramente non è mai ottenuto. Quella si ottiene facendo il PvP, quindi sconfiggendo nemici o facendo eventi nella zona PvP. Qual è la fregatura? Che in realtà non ti serve a niente così com'è. Perché va, diciamo, estratta in dei altari che sono nella zona PvP. Quindi non basta ottenere quella roba. devi anche riscattarla. Se non che mentre inizi a fare questi rituali nella mappa un sacco di gente ti verrà addosso perché ti vuole rubare la roba. Quindi il vero PvP, diciamo, è una sorta di misto evento in-game ma chi appa la bandiera, diciamo. Devi tenere la posizione durante il rituale. Poi ti possono anche ammazzare, però devi tenere la posizione per tipo due minuti. Quindi potenzialmente puoi anche non trovare nessuno. Cioè, se nessuno ti attacca, tu lo fai. Tu completi anche senza combattere con nessuno. Perché i robi li ottieni a prescindere. Quella valuta li ottieni a prescindere. Però immagino che non sia un evento così comune. Non trovare un cazzo di nessuno. No, io c'ero quasi riuscita. Mi mancavano 20 secondi. Poi è arrivato qualcuno e mi ha disintegrato. Non l'ho neanche visto arrivare, te l'ho detto. E con quella valuta puoi riscattare armi, chiaramente. Ma anche roba estetica. Ed è la cosa che mi fa rosicare di più. Perché io sono una fan dei Glamour. Lo faccio anche in Final Fantasy XIV. Il Glamour è il vero endgame, per quanto mi riguarda. Però certe cose sono esclusive e non le puoi ottenere. Se non, appunto, facendo determinate cose. Alcune bardature, tipo c'è questo NPC che le vende, questo Fariba. Ti vende delle cose fichissime. Alcune sono proprio belle belle. Tipo redini del destino sanguinario. Cioè puoi avere questo cavallo insanguinato. Un cavallo bianco coperto di sangue. Che costa 100.000. Solo che purtroppo non sono uniche. Maledetti loro. Non ci sono alternative. Questa qui, bardatura del conduttiero sanguinario? Eh sì, è un cavallo bianco tutto insuzzato. Però 85.000 quest'altra valuta qui. Esatto. Oppure anche, è proprio un set che è soltanto Glamour. Per esempio, che è quello che ti vende ed è proprio il set da PvP. Cioè se tu ti metti lì e ti chiudi e fai solo PvP, quindi ti fai la build PvP, poi ti puoi fare il Glamour PvP e te lo puoi usare chiaramente anche in PvE. Tipo questa qua, vedi, ti vende le vesti del Sicario. Che sono solo Glamour, è proprio cosmetico. E poi ti puoi, e le puoi equipaggiare. Sono molto fighe. Solo che, niente. Ok. E purtroppo si suga fortissimo. Per quanto mi riguarda, non è assolutamente una cosa fattibile. Comunque, allora, arrivati qua, abbiamo ben due roccaforti vicine. Gli faccio pure scegliere dove preferisci andare prima. Abbiamo il Tempio della Marcescenza e l'Altare della Rovina. Sempre dei posti allegri. Guarda, io partirei dalla Marcescenza perché è un concetto bellissimo. Perfetto, perfetto. Ti ho messo il segnalino. Ed è, descrizione, la descrizione è, un male corrotto e marcescente si è insediato in queste sale consacrate. Perfetto. Punto. Vai lì e... Vai lì. Vai lì, sì, sì, sì. Ah, ma forse... Ah! Ma lo sai chi fa? Ma perché... Allora, per esempio, è per dire, ti faccio questo esempio. Qui c'è questo evento. No? Se tu fai questo evento, adesso noi facciamo l'evento, possiamo ottenere... A parte l'esperienza, ovviamente. Dovremmo poter ottenere, visto che siamo nella zona PvP, dovremmo poter ottenere questi petali belli. Bellissimi. Così vedi un po' come funziona. Lo faccio vedere anche io, comunque, perché non l'ho mai fatto in video questa cosa. Ok. L'evento è proprio classico, non ha niente di speciale, sono assolutamente identici. Un'unica cosa può succedere è che puoi trovare qualche stronzo che ti attacca, magari, potenzialmente, mentre lo fai. Ok. Ma non lo faranno, perché sanno che stiamo registrando, sono rispettosi. Vedi? Uh, vedi tutte queste cose. Hai visto, Kobe? Hai visto? Quanto gli piace, Diablo? Ma io, nel frattempo, perché ho sette... Cioè, mi aumenta il numero delle pozze, ho sette pozze. Perché? Quando è successa sta cosa? E quindi, niente, volendo possiamo... Ti faccio vedere come si viene stuprati in PvP. Sì, scusa, ma come mai aumenta il numero di pozioni curative che ho? Non lo so. In base a cosa? Ne ho sette su sette, ne ho. Non sono neanche salito di livello, a meno che... Oh no! C'è un giocatore. No, no, Sanchez. Se tu entri la... No, 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 no. Eh, no, ma se entri, ti attra... Succede una cosa brutta, mi sa. Ci picchia? Eh, sì, perché te ripensa che lo stiamo assalendo. Madonna, Sanchez. Ah, no, non lo penserà. Lo salutiamo. Ah, non si può... Ah, no, è no. Ah, non c'è... Ah, no! Ah, sì, ma è buono! Basta salutare e far capire che non si hanno brutte intenzioni. Funzioni, no? Ok, vedi, sto scoprendo cose, perché... Ok. Rituale completato. Ma io ho tenuto... Ah, ha funzionato! Che culo! Oh, mio Dio, è la prima volta che riesco a ottenere... È la prima volta che riesco a ottenere dei semi. Perché non c'era nessuno qui. Che culo! E c'era Sanchez, che era buono! Io pensavo che fossimo... Ah, c'è un goblin! Pensavo che fossimo autocraticamente nemici. Invece no. Quindi forse è una... È una condizione specifica. Un po' curiosa questa cosa. Vabbè, ho imparato una cosa nuova. Però non ci dà... No, perché purtroppo... Cioè, ci sarebbe il fuoco amico continuo, se... Eh, se siamo in party insieme, ovviamente no. Però... Dico, però, se i giocatori fossero sempre perennemente in PvP, in un evento del genere, sarebbe impossibile combattere insieme. Ci si sparerebbe in faccia. Ma è una zona PvP, per cui te lo... Devi accettare che o sei in party, oppure ci si mena. Ah, ti... Ah, no, parlava Sanchez. Vabbè, ti prego, facciamo questa cosa. Mi sono emozionata. Voglio vedere se... 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 Se adesso arriva qualcuno che ci distrugge, perché volevo farti vivere questa esperienza dei Satana. Ma guarda, è molto bella come esperienza. Però va bene anche così, con questo Ramirez, come cazzo si chiama lui? Ramirez, sì, Sanchez, sì. Ma guarda che già, che non ci sta uccidendo. Io ho convintissima che una volta che entravi, che partiva il rituale... Allora ho capito male io. Che una volta che partiva il rituale, automaticamente tu dovevi cercare di fermare quel giocatore per ottenerne i petali. Invece a quanto pare no. Allora, è buono. Si può fare più co-op di quanto pensassi, praticamente. Porca puttana. Mi ha fatto fregare dal suo salto acrobatico. Sì, questi sono dei pezzi di merda. Quelli che saltano fanno questo colpo che ti stordisce e fa un botto di male. Va assolutamente evitato. Ma allora sono stata io sfigata nera che ho trovato... Cioè, è possibile farmarsi piano pianino i petali anche senza che qualcuno ti disintegri? Perché io ci ho provato tre volte a fare partire un rituale e tre volte è stata un'esperienza che non auguro a nessuno. Sposa perduta. Ma forse perché siamo arrivati in due e siamo già in parti, non lo so. Guarda, tutte le cose. Allora, andiamo a fare questo rituale. Altare dell'estrazione. Tanto ci sei tu che mi difendi, no? Oh, merda, sta arrivando un tizio. C'è arrivando un tizio, cazzo. La vedi sulla mappa? Merda. E il tizio allora, se guardi sulla mappa, Abominio Furioso, è un tizio con... Li concina con le... Con le corna. Non è un cattivo, è una persona, mi sa. Vabbè, ma... Perché dovrebbe volerci uccidere? Perché appena partiamo con il rituale ci fa... Ci attaccherà. Vabbè, buono, dai, ti faccio vedere come funziona questa cosa. Bene. Proviamo. Adesso, se guardi la mappa, sicuro arriva. Adesso io lo sto inquadrando. Io non vedo nessuno. Ah, no, eccolo, la vedo del teschietto, sì. Sì. Ma se ne va, se ne sta andando. Se ne sta andando? Sta facendo bellamente i cazzacci suoi. Sì, sì, continua ad andarsene. Ok. Però anche ero 29 secondi, io sono cagata sotto. No, perché se arriva, arriva duro. Perché la gente che lo fa, lo fa di cattiveria. Ok, 10 secondi. 10 secondi, oddio. No, 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 se ce la facciamo, ce la facciamo. Non c'è nessuno in vista. Ok, faccio l'ulti. Mamma mia. Ma, 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 ma veramente ci volevi? Ho 230 semi, che sono un po' pochi rispetto, visto al fatto che a me servono 100.000 per il cavallo. Però, sai, piano piano. Sono emozionatissima. Ci volevi tu. Va bene, dai, allora, per festeggiare facciamo la marcescenza. Marcescenza, dai, sono contento. Vai, marcesciamo, marcesciamo. Se no, vuoi, possiamo andare avanti a fare sta roba qui, tanto è... Ma no, ma no, è ripetitivo comunque alla fine. Devi, letteralmente, andare in giro. Vabbè, ma tanto se andiamo a fare la marcescenza, secondo me, è che entriamo e meniamo tutti pure lì. Cioè, Diablo non ha altro. Sì, però c'è la trama, c'è il dramma, c'è... Poi, puoi vedere, in una maniera diversa di qualcuno di soffrire, capito, perché... Giusto. È un luogo distrutto da un male diverso dal solito. Cioè, ogni posto ha la sua disgrazia, diciamo. Poi ci sono i bossini, no, no. Però sono contenta, perché quindi volendo uno, piano piano, si mette qua e si fa, si zappa. Guarda, è bellino il cavallino. Sto andando pianino. Tra l'altro gli hanno pure fatto l'animazione del trotto. Che non è una cosa da poco. Perché non serve. No, seriamente, a volte i cavalli vanno... Sì, vedi, questo è il galoppo, però se vai un pochino... Puoi farsi via sia il passo e poi andare un pochino più veloce. Guarda, ti, 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 ti. Comunque, ho scoperto questa cosa incredibile. Dai, allora, che ci facciamo a sto livello 50. Eccomi. Il male si rintana in questo luogo. Strano. Cioè, mica, mica, bubussette. Cioè, porca troia, sti saltatori del merda. Sì, sì. Dai, i carnefici. Io li odio so bad, loro. I carnefici sono proprio cattivi. Per la luce, che fetore. Per quanto tempo hanno adorato questa carcassa. Oh, è fighissimo qua. Guarda, che figo. Appena ammazziamo tutti sti pezzi di merda che ci stanno quasi uccidendo. È bellissimo questo posto. Oh, porca troia. Madonna, quanto fanno male ste pozze. Sì, sì, il veleno pericolosissimo. Mi sa che mi devo convertire la mia abilità. Mi sa che devo diventare un avvelenatore pure io. Anche se credo che contro i nemici non sia così efficace. Cioè, guarda qua. C'è un cadavere gigantesco, marcissimo. Di uno schifo. Di uno schifo di qualcosa. Vedi che c'è sto mostro. Ah, questi dentoni, sì. È un tipo un verme delle sabbie coi denti brutti. Dune, dune. Quindi, praticamente, questi cannibali hanno infestato questo luogo e stanno adorando questo cadavere che però ha generato questa corruzione marcia. Appunto, il Tempio della Marcia Shemson. Vabbè, sì, ma è proprio una questione igienica. Io pensavo fosse una roba maledetta, invece è solo proprio che... Sì, sì, sì. Fanno proprio schifo. E non puliscono a terra questi, va bene. Esatto. Cannibale neofita. Cannibale neofita? Ho mangiato solo vita. Cos'è un cannibale neofita? Non ha solo tempo di anima. È uno switch. È uno switch il cannibale. O mangi umani o no. Porca troia, mi hanno sfondato. Arrivo, arrivo, arrivo. Eh no, questi sono tosti. Sono tosti. Eppure questo è pure bastardo perché ha il doppelganger. E quindi ti fa l'abilità e poi la rifà. Oh, grazie a Zai. Grazie a Zai. Credo che se salvi gli ostaggi... No, che fai? Ah no, rido tantissimo. La tizia ha fatto My Savior e ha droppato dei pantaloni. Cioè si è letteralmente tolta i pantaloni. Ma è sempre meglio del mega ninja ultra agile di Cyberpunk che droppa scarpe da ufficio rinforzate. Ah, vero. Bellissimi drop di Cyberpunk che non sono minimamente contestuali. E' roba cassissimo. Poi chissà se questa cosa... Il ninja. Beh, scarpio d'ufficio. Magari lui fa il ninja per hobby. No? Però di base lavoro in ufficio. Cioè comunque lo stipendio da ninja non so quale possa essere. O forse lo chiamano loro il ninja perché entra, timbra il cartellino e poi va via. Non mi sono. Può anche essere. Può anche essere questo appunto. Un ninja da ufficio. Ma quindi questo DLC in Cyberpunk Non lo abbiamo ancora subito e non l'abbiamo ancora provato. Male, male. Però penso che lo faremo senza dubbio. E che al momento ci stiamo ingarellando tantissimo con The Last Hope che io spero l'abbia già giocato. Purtroppo non ancora. Madonna quanto fa schifo. Quindi lo devo portare in live, giusto? Sì, sì. Ok, ok, ok. Non hai idea. Guarda, se riesci a superare un certo punto ti do guarda, ti do il premio Gran Cood DSS. Oh mio Dio. Cioè no, guarda è un gioco che per essere portato a termine devi romperlo ogni tot. Bellissimo. Perfetto. E infatti tutti gli articoli le recensioni che abbiamo visto in giro arrivano fino tipo a 20 minuti dall'inizio con le immagini le foto. Perché nessuno ha superato certi punti. Bene, ottimo. Allora, allora sì, 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 sì. Sfida accettata. Sfida accettata. Che monnezza. Perfetto. Allora, abbiamo Molkart da sconfiggere che è il capo dei cannibali suppongo. Non ci hanno presentato però suppongo che sia il capo dei cannibali. Sì, senza dubbio. Senza dubbio. Con quel nome lì figurati. una ultima non fa male a nessuno. Eh, lì ci scava proprio, eh. Era proprio guarda che ti fa pure i vincoli lo stronzo. Eh, sono fastidiosissimi. Occhio qua, sono proprio eh, quanti sono! Questi sono fortissimi. Tre elite tutti insieme. Non male che si piacciono. Il presciotto di Molkart quindi è l'avanguardia. Ok. Quante botte che ha preso l'avanguardia. Non è che mi devi gridare mentre sto cercando di salvare la vita. Sì? Che lui fa il tifo, capito? Eh, sicuro mi distrai. Oh, mamma mia, che schifo. Guarda l'aria distorta dal calore. Pensa che profumo. Molto bello. Stiamo camminando sul cadavere. Blè. Caldo. Blè. Blè. Qua no! No, che stai facendo? Si sta mangiando le uova purulente. Che schifo. L'affamatore. Dai, 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 che va giù. Ho bisogno di preparare questo. Occhio che quando solleva tutte e due le braccia lo stronzetto gli fa un colpo bello cattivo. Ce l'ha con me, comunque? Dai, sì, 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 sì. Mamma mia, le botte. Perché sono con spazzo di una roba bianchiccia? Guarda, io non mi farei certe domande in questo momento. Non sappiamo su quale parte del corpo del cadavere stiamo camminando. Non facciamoci domande. Ah, cazzo! Non capisco, non capisco! Troppo fumose quelle robe lì. È incorpore. Che fa? Che fa? Dai, Molkart, l'affamatore, va! È di andare da un'altra parte. Molkart, l'affamatore, ha detto che della mia trappola non viene frega niente, non ci vuole rimanere indischiata, non è prendere danno. Fase 2! Cos'è? Alla fase 2! Progenie di Molkart! È esploso e io avevo mangiato le uova. Gli è uscito fuori sto schifo da dentro. Che schifo! Che turbo schifo! Eh, sì, sì, tu lo fatti inseguire, io lo uccido. Ah, no, ce l'ha con me. Ah, è tossino, eh! È tossino! Ma fa veramente un botto di danno, è mica tanto per gradire. Cioè, un colpetto ti risponda. È stordito, è stordito! Ma è andato! Ok, è andato, è andato, è andato! Mamma mia! È la prima volta che vedo un boss con due fasi durante le le roccaforti, sai? Sì, mi sa che pure io la prima... Ma vabbè, ma però siamo nell'area che dicevi, l'area mistica di... Ah, c'è un'altra cosa, Tempio della Marsa Scienza, dobbiamo... Sì, dobbiamo... Reattivare il santuario. Sì, perché se no non ci dà la missione fatta. Esattamente. L'abbiamo fatto nell'altra? Mi sta venendo un dubbio terribile. Mi sa di no. Oh no. Oh no. Perché mi scordo sempre di fare questa cosa? Perché è lontana. Però ho visto il livello 50. È arrivato. Sono arrivato al livello 50? Ragazzi, sono emozionatissimo perché adesso se io vado nelle abilità ho tutta una nuova sezione che si chiama Eccellenza e qui possiamo fare tante cose tipo Castone del Glifo. Eh, ragazzi, Noto dell'eccellenza di partenza Destrezza più 5 Ah, quindi come mi dicevi qui e tu vabbè, Destrezza assolutamente. Sì, praticamente tu adesso ti fai il tuo percorso personalizzato, lo tuo scopo è arrivare sempre ai bordi dove ci sono dei... dove ti permette di sbloccare nuovi nuovi quadranti e comunque diciamo i punti cardinali ti danno un grosso bonus alle statistiche quindi tu devi trovare la strada che ti è più congeniale all'interno di questi quadranti per raggiungere uno dei lati praticamente del quadrato sbloccando quindi la diacente e però mentre fai questo percorso ti scegli appunto le statistiche che vuoi aumentare e contemporaneamente ci sono anche dei nodi rari o persino leggendari che danno degli effetti extra praticamente quindi devi farti la tua strada chiaramente c'è sempre quella ottimizzata però noi non siamo abbastanza bravi per conoscerla ovviamente però c'è ovviamente c'è puoi rimborsare tutto a costo zero esatto e poi anche sì se non è definitivo mai nulla esattamente come le abilità puoi sempre rimborsare il tuo percorso rifartelo da zero questa cosa è bellissima perché te lo fa vivere in una maniera completamente diversa con molta più serenità ovviamente e guarda allora io ora sono nel panico perché credo che ci siamo veramente dimenticati di il santuario della volta il primo santuario scorsa questa cosa mi deprime molto però ho nel caso pazienza si rifà e tu hai il limite della registrazione anche solo con l'audio o possiamo sfruttare no 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 audio posso andare a oltranza allora così magari facciamo un ultimo perché magari con otto minuti non ci arrivavamo diciamo che se noi andiamo completamente se apri la ma oh mio dio ci sono nemici qua stavo parlando maleducati cafoni larve schifose allora dicevo poi c'è anche davara lì vai abbiamo in realtà eh che palle sto parlando se noi apriamo la mappa ti faccio scegliere abbiamo sotto di noi Alcarnus è da sud non so se lo vedi già no non ce l'ho allora va bene questa parte qui non ce l'ho va bene allora non ti dico dov'è ti dico solo quello ti chiedo solo cosa preferisci abbiamo Alcarnus un deserto ormai abbandonato da tempo che c'era un orrendo passato oppure abbiamo 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 il capanno di Mourdain che è nascosto tra le fronde della rigogliosa foresta e in tempo era onorato dalla presenza di grandi cacciatori di Scosglen ma io andrei al capanno così cambiamo ambientazione e facciamo la foresta e abbiamo fatto molta roba desertica e devastata giustamente quindi a questo punto Corbach ce l'ha il corcevia in alto a destra mi sa di sì vi dico subito sì quanta gente che c'è qua in alto a destra rispetto a dove siamo adesso proprio sulla mappa sì 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 in alto a destra proprio nord est totale nord est ah proprio sì 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 ah dove l'hai messo tu il coso allora vediamo il più vicino è Tirmire perfetto va benissimo là andiamo là yeah è così più divertente farli in compagnia alle roccaforti perché da soli alla fine adesso piuttosto mi faccio i dungeon diciamo che non lo trovo più stimolante come all'inizio adesso perché adesso ho sbloccato una meccanica nei dungeon che li rende molto più soddisfacenti diciamo ma senti ma ci svuotiamoci l'inventario prima va sì sì che io ho un po' di robina io posso potenziarmi qualcosa sì che posso là oh cazzo questa collana è bellissima madonna che roba che ho droppato non stavo guardando il drop cioè ho un drop ho un drop della miseria bellissimo aspetta aspetta ho veramente una roba bella ho un amulè una catena del saggio amuleto leggendario che mi cura 13 di vita al secondo per ogni nemico vicino e questo è bello e poi un elmo leggendario che mi cura al secondo per ogni nemico vicino bellissimo c'ho due robe curative eh puoi farti puoi farti la sinergia assolutamente se è buono se le statistiche sono buone ecco fallo assolutamente peccato che c'ho sta roba qui eh questa questa è bella vabbè però provo provo a farmela così provo a avere questa questa build diciamo rigenerativa perché sto cominciando a perdere un bel po' di vita anche se tu mi dicevi che da adesso in poi le principali non saranno un problema perché sono massimo livello 50 sì 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 più in alto dico sì anzi ti dirò che adesso è questo assolutamente un difetto del gioco inizierà a essere difficile livellare cioè ti verrà proprio a meno che appunto non ti metti a fare queste cose intenzionalmente per livellare però non credere che si livellerà più così tanto purtroppo non so perché non l'hanno pensata così secondo me il livello di difficoltà 3 potevano metterlo disponibile già prima di finire la campagna invece adesso tu sei obbligato a restare così e quindi troverai sicuramente degli occupamenti migliori rispetto a quelli che hai però dropperai al massimo roba tipo di livello 40 leggendaria del 44 per dire non puoi trovare roba più forte è perché sono bloccate per il livello mondo successivo non so perché hanno fatto questa scelta perché secondo me il livello mondo 3 è gestibilissimo una volta che arriva al livello 50 ma non lo so magari hanno diciamo tarato tutto su chi si fa la campagna e basta perché se ti fai solo le principali secondo me non trovi questo invece già io che mi sono fatto un botto di secondarie probabilmente l'ultima parte della campagna me la farò proprio volando si ti dirò il boss finale è abbastanza cattivello specialmente se te lo fai da solo nel caso io sarei anche disponibile a rivedermi la bellissima cg prima del contro finale non so se arriverai a vedere il boss finale di allo 4 però quello è bello figo all'inizio non so quanto tempo manchi allora sono sei atti però considera che poi accelera molto i primi 3 sono molto più lunghi i primi 3 sono molto più lunghi ce n'è uno che mi pare il 5 dura pochissimo quindi sei comunque penso abbastanza a metà se ti concentri solo a metà abbondante se ti concentri solo su quello soprattutto adesso che sei di livello alto per la trama lo fai proprio in scioltezza allora ispeziona la riserva di caccia che devo fare come le ispeziono sta riserva di caccia devo vagare devono esserci degli oggetti da controllare a terra dei punti ok trovo i cacciatori del cabanno dispersi ok perfetto perfetto si deve attivare ah io ho bloccato un punto eccellenza anche io perché tra l'altro adesso ecco questa cosa non te l'ho detta ma da adesso in poi vedrai che la barra dell'esperienza non è più gialla è diventata azzurra esatto è blu e in realtà i punti eccellenza non li ottieni quelli che ti servono per sbloccare i vari nodini del tabellone nuovo non li ottieni uno per livello ma ne ottieni quattro per livello se vedi la se vedi la barra ci sono dei pallini si sono non è e quelli sono punti eccellenza quindi hai pure i punti intermedi prendi molti più punti ma i punti per le altre abilità invece adesso non li posso più investire li puoi ottenere solo aumentando la fama del mondo come premio quindi ne potrai ottenere altri però devi avere la fama cioè la fama al massimo mi pare che tipo hai sto sparando hai 58 punti mi pare non ne hai per dire 50 ne hai 58 quindi puoi assolutamente ottenerne ancora però lì è completismo proprio del mondo se vuoi farti la build super figa con le abilità mentre da adesso in poi vai solo di statistiche ed effetti ok quindi devo fare secondarie sostanzialmente si devi devi fare le roccaforti appunto le roccaforti danno 100 fama quindi comunque è una cosa utile quella che stai facendo adesso devi completare la la mappa devi completare la mappa fare le quest secondarie e fare le roccaforti si quindi è completismo la fama è completismo però davvero alcune quest secondarie sono molto rapide non si fanno proprio allora io prendo il cavallo un secondo così vado a fare a tappeto vado un po' faccio un po' prima magari trovo questi cacciatori ah ma hai esaminato il cadavere a terra segni di scontro no evidenzi se vedi cadaveri assolutamente tocca lì anche tu perché mi sa che non appaiono sulla mappa se vedi roba assolutamente interagisci c'è un coniglietto oh ma sta cosa del questi oggetti che ho preso che ti ricaricano in base a quanti nemici c'è intorno è una figata eh ma infatti per questo tipo che là quando ti dicono di giudicare dell'endgame diciamo è sbagliato però ti cambia proprio l'approccio oh mamma mia sì ecco è arrivato la belva di mordain per cui se vuoi sto combattendo non pensavo che allora aspetta arrivo arrivo c'è un mostro di bloodborne praticamente ok arrivo arrivo assordito no no ah no era un evento non gli davo più non gli facevo più danno va bene lo dobbiamo inseguire la belva lo seguiamo la belva ma bestia ma mi sa che lo scontro qui c'è il santuario ma mi raccomando non scordiamocelo no no ci ho messo un cazzo a bubbi ma guarda c'è un cadavere qua troppo tardi cazzo sono chiuso vabbè lo guardiamo dopo penso che penso che rimane là non credo che abbia impegno belva è però si è curata la belva mica non vale porca troia che dolore pensavo eh si ma è come un fabbro o come un lupo mannaro dipende però mi sa che non scappa adesso ce lo giochiamo tutto qua che cazzo è è l'uomo dietro il lupo oddio ero un druido non ero lupo mannaro beh forse i lupo mannari sono druidi non me l'aspettavo ma che figo sì ero uno strozzo ma questo quindi è pure un cannibale di merda perché si mangiava i cacciatori si rimasticava tutti beh in quanto lupo mannaro non mi sorprende affatto che si mangi le persone sì però se vai se laghi per la madonna vuoi fionnir ah sì fase 3 è diventato un orso con nuove mosse dai dai è quasi morto dai dai fionnir oh sì ok abbiamo fatto hai visto perfetto grande adesso voglio sperare che l'arco che ho droppato oh più 98 ammazza eh ma che adesso adesso sì sì adesso questo è il momento bello eh livello 50 credo non so se è una cosa ufficiale però credo che raggiunto il level cap quindi c'è tra virgolette di level cap di trama eh inizia ad ottenere più leggendari però considera che difficilmente saranno appunto di chissà quale livello io li trovo sempre al 44 46 ok ah no purtroppo in realtà ah no c'è ancora ok se non sta avvicinando contenuti sono qua sono qua andiamo andiamo abbiamo purificato guarda tante persone ci sono caccato sotto no dicevo che qua c'era un cadavere però non c'è più hanno pulito no si è veramente andato comunque dai abbiamo fatto una bella pulizia contatti tra l'altro se apri la mappa allora tu sei su playstation quindi se premi il touchpad e premi triangolo si si mi dà le ricompense esatto e tu praticamente devi sempre allora quando quando sblocchi una uno scatto comunque il gioco te lo notifica però puoi vedere appunto quanto ti manca in ciascuna regione per per ottenere appunto la fama infatti vedi cosa ti serve ti servono i crocevia roccaforti le missioni secondarie esplorare la mappa i dungeon e gli altari di livit che però danno poco chiaramente il grosso lo fai con le roccaforti che sono una parte difficile però comunque per avere il 100% credo che tu debba fare tutto quanto però non prenderla come una certezza perché forse non è così no in realtà no ho detto una cagata non è vero perché io le vette frantumate ce le ho al massimo però non ho fatto tutte le missioni secondarie non ho fatto tutte le spedizioni secondarie ne ho fatte meno della metà quindi no non serve il 100% per ottenere il massimo di fama per ciascuna regione non devi fare tutto al 100% il che secondo me è una cosa fantastica in realtà beh diciamo che vabbè sulle vette frantumate io sto al 7 su 7 3 su 3 20 su 35 62 su 76 e poi le spedizioni secondarie non me le sono fatte per un cazzo ho fatto 7 su 23 al time limit 5 su 28 si ma guarda te lo dico se vuoi provarci fallo assolutamente però per quanto riguarda i dungeon io mi sono resa conto che diventa più ottimizzato farli nel momento in cui inizi e ci vuole un bel po' devi fare il mondo 3 inizi a droppare i sigilli perché con i sigilli tu attivi all'interno dei dungeon dei malus dei bonus e dei malus i nemici salgono di livello in base al livello del sigillo tipo di solito il dungeon è del livello tuo quindi per dire il dungeon livello 50 però se usi un sigillo di livello 12 per esempio il dungeon diventa livello 62 quindi avrai dei nemici di livello 62 che quindi ti danno molta più esperienza ti droppano roba più rara chiaramente sono molto più forti ma questo non direte lo spiego e oltre a questo in base al sigillo che usi che sono veri e propri consumabili applichi dei bonus e dei malus quindi comunque tendenzialmente è più difficile rispetto a un dungeon liscio ma ottieni un premio extra alla fine quindi ottieni sia il premio di completamento del dungeon base che questo premio extra che sblocchi per cui in realtà idealmente è meglio farsi dungeon e completare dungeon una volta che inizi a utilizzare i sigilli perché fai due cose al prezzo di una chiaramente poi sta chiaramente a chi vuole giocare che magari è compulsivo tipo io che nel beta test dove tutti i progressi sarebbero stati resettati ho trovato tutti gli altari di Lilith perché mi era salito l'autismo fondamentalmente dovevo completare tutto al 100% ed è stata una cagata era stupido farlo perché poi ho perso tutto ovviamente però si fa comunque dai a questo punto ci siamo fatti la nostra oretta di stermino sono stracontenta perché ho immortalato nel mio video il tuo livello 50 abbiamo un sinergolo su Diablo 4 che possono vedere solo qui non si ripeterà mai questa particolare esatto ma è stato un evento davvero secondo me storico perché comunque una pietra miliare dell'esperienza quindi io ti stra ringrazio chiaramente trovate altri video di co-op su Relax ovviamente e quindi andate a guardare anche quelli dove si fa più trama nel caso io ringrazio Sinergo ringrazio Shona è il suo livello 50 e noi ci sentiamo ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi grazie